Digiuno per protesta, sciopero della fame per il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, chiede i soldi per la realizzazione dei progetti d'accoglienza appellandosi al Presidente della Repubblica, Mattarella. Donne del clan, salgono a 45 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione Ares contro i presunti esponenti della cosca cacciola Grasso di Rosarno, in manette anche le donne del clan e la criminologa Angela Tibullo che avrebbe corrotto medici e professionisti per far scarcerare esponenti dell'Andrangheta. Strada da incubo, arrivo Valencia alla protesta dei cittadini di una popolosa frazione costretti a fare conti con una strada dissestata da anni e che, nonostante gli innumerevoli appelli, nessuno vuol sistemare. La donna questore si è insediata a Cosenza questa mattina. La prima donna questore si tratta di Giovanna Petrocca. Oggi ha incontrato gli operatori dell'informazione. È state a casa aberto. Torna la rassegna dedicata al compianto scrittore veneto che a Capovaticano decise di trascorrere la sua vita. Ospite della serata inaugurale, l'ex direttore del Corriere della Sera, Palomieli, che ha indicato le prossime elezioni regionali come banco di prova per la tenuta dell'alleanza Lega 5 Stelle. Buonasera d'Alessio Buonpasso e bentornati alla nostra informazione. Partiamo da Riace, dalla protesta del sindaco Mimmo Lucano, il primo cittadino della città, simbolo dell'accoglienza verso altri popoli. È iniziato lo sciopero della fame, un gesto eclatante con tanto di richiesta del Presidente della Repubblica per sbloccare la situazione legata ai soldi per i progetti portati avanti attesi da due anni. Guardate. Finché non viene il Presidente della Repubblica o dal Comune non arrivano segnali concreti, carte di recreti che sono arrivati i soldi, non me ne vado di qua. Una forma di protesta decisa quella di Mimmo Lucano, che nel giorno dell'apertura del Riace in Festival, ha deciso di iniziare lo sciopero della fame. Il Paese dell'accoglienza è stato infatti escluso dal saldo dei progetti Sprar e per il 2018 non è compreso tra gli enti beneficiari del finanziamento del primo semestre. Nonostante tutte le attività siano state svolte e nessuna comunicazione è pervenuta dalla chiusura del progetto. È stato quindi accumulato un incente debito con il personale, con i fornitori e con gli stessi rifugiati. Non ho bisogno di parole o di altre carte, ma di cose concrete. O il Presidente della Repubblica che viene come persona, in modo che posso parlare, gli possiamo spiegare la realtà, oppure che dal Comune di Riace arrivano elementi concreti di bonifici che sono stati inviati dal Ministero degli Interni. Non voglio raccomandazioni, non mi appello a nessuno che mi può aiutare. Voglio giustizia. Giustizia significa come gli altri comuni italiani. Ilario Balì per la CINUS24 Intanto nuovi arresti per la cosca Cacciola Grasso di Rosarno in manette altre 7 persone, tra loro anche le donne del clan e la criminologa Angela Tibullo che avrebbe corrotto medici e professionisti anche con escort per far scarcerare esponenti di primo piano delle cosche di Gioia Tauro. Nuovo colpo alle cosche Grasso e Cacciola di Rosarno. I carabinieri su ordine del GIP distrettuale di Reggio Calabria hanno compiuto altri 7 arresti. A finire in manette anche le donne del clan Antonietta Vergilio, Anna Maria Virgilio e Marilena Grasso. Per la DDA dello Stretto, grazie ai legami familiari con i vertici dell'Andrina della piana di Gioia Tauro, sarebbero pienamente inserite nelle dinamiche criminali. In particolare, oltre alla gestione delle attività illecite e la detenzione delle armi, le donne avrebbero favorito i contatti tra gli affiliati, soprattutto quelli tra i detenuti, recapitando le cosiddette ambasciate fuori e dentro dal carcere. In tutto, sono 45 i soggetti coinvolti. L'operazione odierna è infatti il proseguimento di Ares e l'inchiesta della DDA, condotta il 9 luglio scorso, che ha disarticolato le due indrine entrate in guerra per la gestione del potere criminale sul territorio. Tra gli arrestati c'è la criminologa Angela Tibullo, accusata di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziari e intralcio alla giustizia, reati tutti aggravati dall'aver agevolato l'andrangheta. La professionista originaria di Polistena, ma residente nella capitale, avrebbe corrotto medici e consulenti vari per far ottenere benefici penitenziari, come la detenzione domiciliare rispetto a quella carceraria, a diversi esponenti delle indrine grasso e pesce di Rosarno e crea di rizziconi, come il boss Teodoro, detto Toro. La donna avrebbe persino offerto favori sessuali di escort in cambio di decisioni favorevoli alle cosche. Si prodigava per rendere, per fare in modo che a questi personaggi venisse riconosciuta l'incompatibilità al regime carcerario, come? Quindi o redigendo lei delle false attestazioni, delle false consulenze oppure corrompendo i periti nominati dall'autorità giudiziaria per valutare lo stato di salute dei suoi assistiti. In un'intercettazione lei ambisce ad arrivare al ruolo di regina della penitenziaria, attraverso cosa? Quindi per raggiungere questa ambizione lei aveva creato proprio una struttura, una rete criminale aggregando medici, professionisti e funzionari compiacenti oppure minacciando gli stessi di farli uscire da questi affari illeciti se non avessero ovviamente adempiuto alle sue indicazioni. Angela Panzera per la Cineus 24. A Cosenza invece è stato oggi il giorno del nuovo questore, si è insediato. Il contrasto alla violenza di genere sarà tra le priorità del nuovo questore di Cosenza, Giovanna Petrocca, originaria di Petilia Policastro, con una prestigiosa carriera alle spalle in buona parte maturata nella capitale, alla guida dei commissariati di San Lorenzo e del Viminale, ha assunto l'incarico nella giornata di ieri e oggi ha incontrato la stampa. La lotta alla violenza di genere, al femminicidio, ci sarà una particolare attenzione, come già c'è stata con il mio predecessore, però ho intenzione di amplificare i servizi e i progetti su questa tematica, quindi incrementeremo molto la presenza del camper per le strade, del camper di questo non è amore, ho intenzione di fare delle conferenze sia io personalmente che i miei funzionari nelle scuole, vedremo poi in che altro luogo possiamo farle, anche con delle manifestazioni all'esterno. Sul tavolo le criticità derivanti soprattutto dalla vastità del territorio, quella di Cosenza è una provincia estesa con diverse aree esposte alla infiltrazione criminale. Cosenza è molto vasta come provincia, la conosco non benissimo, pur essendo calabrese, però mi sono documentata in materia. Chiaramente ha tutte le peculiarità e le problematiche delle città, diciamo così estese come territorio, le città del sud, però ha anche tanti pregi, tanta buona volontà da parte sia nostra che ho visto nei primi contatti che ho preso delle altre istituzioni, il prefetto, il vescovo stesso, insomma ci saranno delle iniziative da portare avanti sia a carattere prettamente di polizia che a livello sociale. A Vibo Valencia il paradosso tutto legato ad una strada, guardate. Il comune ci ha abbandonato completamente. Non si direbbe ma questa strada è nel cuore di uno dei quartieri residenziali più moderni di Vibo Valencia. Non si direbbe ma questa strada non ricade nel territorio di Vibo Valencia ma in quello di San Gregorio di Pona. Facile intuire invece, questa strada è liquido di chi vi risiede. Nell'inverno non si può passare perché c'è pango, nell'estate c'è un sacco di polvere non possiamo andare avanti così. Buche, quando piove spacchia le macchine, proprio ci siamo recati molte volte al comune e con risultati negativi e pessimi perché solo prese in giro ci sono state. Insomma, disagi per tutte le stagioni, nel contesto di un braccio di ferro che le numerose famiglie residenti hanno ingaggiato con gli enti locali, in particolare con il comune di San Gregorio. Ora c'è una terna commissariale dopo lo scioglimento per mafia. Ieri c'era un sindacaletto, l'altro ieri ancora i commissari e così via. I risultati però sono questi. È una situazione disastrosa qua e va messa in sicurezza sia la strada che le illuminazioni. Un ragazzo non può uscire, non si può uscire la sera. D'inverno non si può scendere nemmeno dalla macchina. In emergenza non può avvenire un mezzo di soccorso. Arrabbiati i cittadini, sulle fognature hanno ceduto. Il municipio non ascoltava e hanno dovuto provvedere da sé. Michele Tavella mostra le carte con parecchia stizza. Ho dovuto fare anche la fogna di tasca mia dopo che ho pagato tutto per poter darmi la concessione e purtroppo nessun risultato, ecco. Sulla strada però non intendono cedere. Non è che quello che chiediamo chiediamo tanti servizi, chiediamo solo un pezzo di strada giusto per poter far sì che la circolazione sia normale, solo questo. Anzi, pare che prima che il Viminale congedasse per interferenze mafiose gli eletti di San Gregorio fosse stato approvato un finanziamento da 18.000 euro per questa strada. E adesso? I commissari sapranno rispondere alle istanze dei cittadini? Qui, dove le auto passano una per volta, le pici circolano al loro rischio e pericolo. Qui ha difficoltà di entrare perfino un mezzo di soccorso. Questa donna e la sua famiglia, esasperati, ne sanno qualcosa. Succede che quando avviene l'autobolenza non è passata, avevo chiamato la guardia che non è passata, è ridotta male. Da Vibo Valencia per la CINUS24. È stata concessa dalla prima sezione del TAR di Catanzaro la sospensiva richiesta dalla società La Rada SRL in persona del suo amministratore unico Francesco Cascasi avverso il comune di Vibo Valencia che nelle settimane scorse con una diffida aveva contestato la struttura balneare con annesso ristorante e barra denominato appunto La Rada, la realizzazione di alcune presunte opere abusive e la modifica di destinazione d'uso dell'immobile. Da qui l'ordinanza di demolizione, il ritiro della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande con atti firmati dai dirigenti Michele Fratino e Adriana Teti. Per i giudici amministrativi si legge nel dispositivo essendo in corso la stagione estiva nell'ambito della quale viene esercitata l'attività della concessionaria sussiste un pregiudizio. Da qui la sospensione di tutti gli atti ammessi, emessi dal comune di Vibo sino alla trattazione nel merito del ricorso in cui la discussione è stata fissata per l'udienza del 27 marzo del prossimo anno. E adesso la campagna lanciata da Ludicon contro la ludopatia che sbarca in Calabria. L'installazione di 15.000 ATM, 15.000 Bancomat dentro i tabaccai vuol dire alimentare per secondo noi la possibilità che i ludopatici possano attingere direttamente presso le tabaccherie prelevando fino a un massimo di 150 euro per poterli poi spendere giocando attraverso l'acquisto di gratte e vinci o direttamente le slot machine. E' già partita a livello nazionale e a breve approderà anche sulle spiagge calabresi la raccolta firme legata alla campagna Vincos Smetto promossa dall'Udicon e dall'Unione Nazionale Consumatori. L'obiettivo è prendere di petto il gioco d'azzardo, anche se questo dovesse significare mettersi contro un colosso come intesa San Paolo. E questa è infatti la banca che sta per installare in 15.000 tabaccai i Bancomat che permetteranno di effettuare prelievi ma potrebbero anche incidere pesantemente sulle tasche di chi soffre di ludopatia. Noi siamo da anni impegnati sul tema della ludopatia. Insieme con l'Unione Nazionale Consumatori abbiamo avviato un progetto che è finanziato anche dal Ministero del Lavoro che parla appunto di ludopatia, prevenzione on the road è il titolo del progetto, parla di ludopatia, di dipendenza e di gioco d'azzardo. E' possibile aderire alla campagna firmando anche sul sito Udicon o tramite l'omonima applicazione. Tiziana Bagnato per la Cineus 24. Torniamo a parlare dell'operazione Appalto Amico, l'inchiesta della Procura di Paola sulla presunta corruzione turbativa d'asta negli affidamenti di appalti sul Tirreno Cosentino. Ci sono delle novità, guardate. L'arresto di Gennaro Marsiglia nell'ambito dell'operazione Appalto Amico ha fatto saltare le procedure di reclutamento in convenzione di un responsabile finanziario ed amministrativo avviate dal Comune di Maglierà insieme ai municipi di Buonvicino, Fagnano Castello e San Sosti. Il dirigente era tra gli aspiranti a ricoprire quegli incavi come alla bufera giudiziaria che lo ha travolto e ha indotto i sindaci di Fagnano e San Sosti a sfilarsi alla luce dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Paola e condotta dalla Guardia di Finanza. Come mai il Comune di Fagnano ha deciso di sfilarsi da questo rapporto che inizialmente aveva stretto col Comune di Maglierà? Alla luce delle indagini in corso è un atto doveroso. Noi abbiamo piena fiducia nella magistratura, crediamo ovviamente nella presunzione di innocenza. Perché la revoca? Perché il responsabile del servizio finanziario l'avrebbe scelto il sindaco del Comune di Maglierà attraverso un avviso pubblico. E alla luce di quello che si sta profilando noi al momento non possiamo avere alcuna fiducia con tutto il rispetto che ovviamente ho nei riguardi del collega del sindaco di Maglierà. I sindaci di San Sosti e Fagnano non hanno voluto correre il rischio di ritrovarsi in uno degli uffici chiave della loro amministrazione un indagato per corruzione turbativa d'asta. I comuni di Maglierà e di Buonvicino sono invece decisi ad andare avanti ed hanno deliberato l'adozione di una nuova convenzione, questa volta insieme al Comune di Santa Domenica Talao. Nei prossimi giorni, in piena estate, procederanno quindi alla pubblicazione del bando. E non vi è dubbio che l'esito sarà particolarmente atteso. Salvatore Bruno per la Cineus 24. A Corigliano Rossano resta incerto il futuro della centrale Enel. I sindacati sono in allerta e attendono risposte sul futuro lavorativo che potrà offrire questo grande sito industriale. Ancora in fase di stallo, il programma futuro è per il riutilizzo e la riqualificazione della centrale Enel di Santirene Cutura a Corigliano Rossano. Dopo essere sfumata ormai da anni la possibilità di una riconversione dell'aria industriale per la produzione di energia elettrica, il sito vira verso un nuovo core business, più adeguato alla vocazione del territorio. Ci sono delle idee in campo, ma ancora tutto rimane fermo, mentre cresce la preoccupazione dei sindacati che vogliono chiarezza sul futuro lavorativo di questo mega insediamento. Il progetto che ci è stato presentato ultimamente è interessato solo al 10% dell'intero territorio della centrale, per cui il progetto più grande, il progetto complessivo, ancora non ci è stato di fatto presentato. L'Enel ci ha garantito nell'ultima riunione che entro il mese di settembre prossimo, quindi tra un mesetto circa, ci dovrebbero presentare il progetto che hanno scelto per riutilizzare l'intero sito. Resta da chiarire se questo progetto può essere portato avanti oppure no. L'azienda Enel sta tergiversando su questa cosa, per cui noi siamo abbastanza arrabbiati e preoccupati come sindacato, perché non si può tergiversare ulteriormente. La gente ha fame di lavoro, la gente si aspetta di avere qualche opportunità di lavoro in questo sito che ha visto la presenza di migliaia e migliaia di persone, per cui noi siamo attenti, vigili, perché questo progetto comunque va davanti e sia un progetto realizzabile seriamente. Marco Lefosse per la CNews24. Riaprirà i battenti dopo una lunga chiusura e dopo aver subito soprattutto numerosi atti vandalici la scuola Lombardo Radice di Catona. Abbiamo sentito il sindaco di Reggio, Falco Matà. Dopo sei anni di chiusura è pronto a riaprire i battenti il plesso scolastico di Catona Lombardo Radice. La scuola, chiusa insieme a tanti altri istituti del territorio reggino durante la gestione dei commissari prefettizi, seguita allo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per l'intera zona nord della città. Anche nel periodo di chiusura il plesso è stato spesso oggetto di atti vandalici. La scuola è stata praticamente rimessa a nuovo, anche con il rifacimento di tutti gli impianti. I lavori verranno completati in tempo per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019. È un punto importante perché finalmente si concludono i lavori di adeguamento strutturale di una struttura fondamentale per la periferia nord della città, ovvero il plesso scolastico Lombardo Radice. Scuola chiusa nel 2012 insieme a diverse altre scuole della città per via di una decisione presa dall'epoca terna commissariale che guidava la città. L'idea dell'amministrazione comunale è quella di celebrare proprio nell'istituto ristrutturato la cerimonia di inaugurazione del prossimo anno scolastico. Restituire la scuola al quartiere di Catona significa anche restituire un presidio di sicurezza, di legalità, di educazione, di cultura, di istruzione per le famiglie che decideranno di continuare a vivere a Catona o di stabilire la propria residenza lì. Riccardo Tripepi per la CNews24 Politica, cultura, informazione e temi della rassegna estate a casa aberto che ieri ha avuto come ospite l'ex direttore della Corriere della Sera Paolo Mieli il quale ha parlato anche di prossime elezioni regionali. Un Paolo Mieli brillante è stato ospite ieri a Capovaticano nell'ambito della rassegna estate a casa aberto dedicata al compianto scrittore veneto che su quel promontorio decise di trascorrere la sua vita. Venire in Calabria, a Capovaticano, in onore, sempre in ricordo di Giuseppe Berto che è stato sicuramente uno dei più grandi scrittori italiani ha varie valenze, non credo che si possa volere meglio politica, cultura, arte e poi un posto davvero magnifico. Mieli ha interessato il pubblico rispondendo alle domande dei giornalisti e mostrando ai presenti un acume e un equilibrio che lo pongono di diritto tra i più grandi intellettuali del nostro tempo. Moltissimi temi trattati, dall'informazione al mezzogiorno, dalla crisi della sinistra alla presidenza Rai, passando per le prossime elezioni regionali, considerate il lago della bilancia per la tenuta del governo 5 Stelle e Lega. La Calabria sarà un test importante per vedere se anche qui si affermerà il Movimento 5 Stelle e soprattutto la Lega. Io credo che la sinistra pagherà un prezzo come chiunque ha governato, avrà delle difficoltà. Non voglio fare l'uccello del malogurio, però credo che avrà delle difficoltà. Ma per tutto il paese sarà importante vedere perché se qui si affermerà la Lega oltre al Movimento 5 Stelle, allora vuol dire che quel movimento a cui abbiamo assistito a 4 marzo è un movimento di lunga durata. Se loro riusciranno a governare e la maggioranza reggerà, segneranno un'epoca molto lunga. Adesso di qui al giorno in cui si votrà in Calabria, vedete quante coincidenze, l'unica loro prospettiva è quella di rimanere, durare e non litigare tra loro. Alessandro Stella per la CNews24. A Roccelletta di Borgia c'è grande attesa per la traviata di Giuseppe Verdi. Dopo Elio e Francesco Micheli, Gaetano Veloso, Pat Metini e John Scofield, al parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia è attesa la grande musica di Giuseppe Verdi, la traviata. Un'opera icona del melodramma che andrà in scena il prossimo 7 agosto nell'ambito della diciottesima edizione di Armonia d'Arte Festival e la rassegna diretta da Chiara Giordano. Dopo le grandi star internazionali ad Armonia d'Arte Festival nell'incanto del parco Scolacium arriva la grande lirica, un po' l'identità italiana e l'opera più amata e più conosciuta del mondo, la traviata di Giuseppe Verdi. Un casto eccellente, una regia molto particolare, la consulenza supervisione di Vittorio Sgarbi e martedì 7 agosto saremo qui ad aspettare tutti voi con la traviata. È l'opera dell'amore, è l'opera della passione, insomma, è l'opera che ognuno di noi ha sicuramente sentito almeno una volta nella vita e se non l'ha sentita, venendo qui potrà innamorarsi dell'amore. Vi aspettiamo, ogni informazione naturalmente su www.armoniadarte.com Restate con noi. Rosselle Galati per la CNews 24 Era il nostro ultimo servizio, ancora grazie per averci preferito e a voi tutti una buona serata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia. La CNews 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30 La CNews 24, la Calabria che fa notizia.